La giornata è dell'Evole. Sì, Leone che vedrà una giornata decollare pian pianino, inizierà ancora con un umore, diciamo, non proprio ottimale per i nostri Leoni all'ascolto, poi pian pianino però la Luna, spostandosi nel pomeriggio nel segno del Sagittario, porterà una bella ventata di allegria e ne avete assolutamente bisogno voi, amici del Leone, perché siete reduci da un paio di giorni di discussioni, di impegno anche importante tra le pareti domestiche. Adesso invece potete dare libero sfogo anche a quelle che sono le vostre passioni, i vostri hobby. È una Luna che parla anche di amore, soprattutto nei prossimi giorni, questa Luna diventerà particolarmente favorevole per i single che sono alla ricerca magari di una persona nuova. È una giornata in cui avrete voglia anche di fare qualcosa di completamente diverso dal solito e magari potete permettervelo in questi giorni, diciamo così, di pausa, perché c'è questo lungo weekend a vostra disposizione, anche per dedicarvi ad attività sportive, agite fuori porta a piccoli spostamenti, a brevi viaggi. Andiamo al segno della verde.